Missione compiuta, bastava un pari sulla distanza di 120 minuti per accedere alla finale playoff del Gironi H di Serie D e è arrivata una vittoria all'interno dei 90 minuti per il Nardò contro la Fidelis nella semifinale, giocata in gara secca al Giovanni Paolo II, rete decisiva di Danna per la sesta affermazione di fila per i Neretini. Non è mai facile vincere, soprattutto contro l'Andria. Abbiamo fatto una buona gara dall'inizio, abbiamo cercato di vincere la partita, ci siamo riusciti e ritengo di essere andati in finale con grande merito. La finale playoff è tra Martina e Nardò, fischio di inizio previsto domenica prossima alle ore 18 al Torsi. Ci arrivano due squadre in gran forma. Il collettivo di Massimo Pizzoli non perde da oltre due mesi e dopo aver chiuso il secondo posto della stagione regolare ha rifilato un secco 3-0 al Casarano nella semifinale playoff. È ovvio che mi preoccupi perché comunque giochiamo contro una squadra, mi avviso, forse al momento la migliore, la squadra che sta meglio, la squadra che, come diceva il mister, è cresciuta in modo esponenziale e può passare del tempo. Adesso è una squadra davvero forte da tutti i punti di vista. Poi io, non perché c'è il mister in studio, ma nutro grande ammirazione perché sono riusciti a fare un grandissimo lavoro, un grandissimo campionato. Forse alla vigilia non erano neanche accreditati per questo. Il Nardò, da terzo in classifica, ha vinto nella passata stagione i playoff di Serie D ma non ha potuto percorrere la via del ripescaggio in C per colpa dello stadio. Il Nardò, da terzo in classifica, vuole vincere i playoff di Serie D anche in questa stagione e, a differenza della scorsa, ora ha lo stadio pronto per approdare nel calcio professionistico attraverso la porta di servizio. Per spuntarla contro il Martina, però, gli uomini di Massimo Costantino hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, in 90 o in 120 minuti. Sappiamo sicuramente che chi ha due risultati e chi gioca in casa è ovvio che abbia un vantaggio, altrimenti, però, nel calcio non sempre poi le partite vanno a finire così. Nel calcio può succedere di tutto. Sicuramente, come ha detto il mister, sarà una partita molto bella che le squadre che, a mio avviso, interpretano bene lo spartito. Sugli spalti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e quindi spero che sia uno spot per il calcio. Poi è ovvio che vinca il migliore, ma speriamo che il Nardò sia la squadra migliore. Grazie. Grazie. Grazie.